La transizione ecologica è un bellissimo concetto. Entro il 2050 l'obiettivo è quello di eliminare completamente la combustione dei carbon fossili, quindi tutte le macchine in teoria dovrebbero andare a corrente. A meno di 30 anni dall'obiettivo però qual è la situazione a Legnano? La situazione è difficile. A Legnano c'è una sola colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Queste che vediamo in stazione, ce ne sono anche nel parcheggio di via Matteotti, non sono abilitate per la ricarica delle auto più moderne ma soltanto per questo tipo di vettura che era stato comprato dai vei, dal servizio che era stato gestito dalle ferrovie nord insieme ai comuni che ne avevano aderito. Anche chi vuole mettersi la macchina in casa ha dei problemi serissimi perché non sempre le prese dei condomini sono adatte, anzi praticamente quasi mai. Il risultato è che la svolta ecologica ci sarà sicuramente un giorno ma adesso è ancora tutta da venire.